Grazie a tutti perché mi avete messo un altro, però devo dire che io queste serate le dico penso sempre a Franco perché veramente ecco come l'ho visto prima dico che è l'amore mio, perché è stato per 40 anni l'amore mio ed era una cosa importante, però ringraziandomi me ne sono scritte due parole perché ieri non mi è andata giù una cosa e devo dire che stamattina quando sono andata al mercato stamattina la prima cosa... Perché la signora va al mercato? Perché devo pensare alla famiglia, la famiglia è aumentata perché adesso ho anche due in voto mi aiutano molto a superare questo momento, devo dire che mi stanno aiutando tantissimo